La gatta cenerentola fu scritta da Roberto De Simone nel 1976, raffinata favola musicale che impasta sapientemente gli archetipi, i suoni e i simboli della cultura napoletana. Martedì 20 dicembre, al Teatro Mediterraneo, la gatta sarà rappresentata in un'edizione speciale a cura del Centro di Salute Mentale di Puglianello, con un cast di circa 100 attori e musicisti, fra medici, infermieri, pazienti e volontari della struttura pubblica sannita. Le strategie dell'inclusione sociale devono considerare i luoghi della salute mentale come spazi il più possibile temporanei, per restituire i pazienti ad un vissuto sereno e autentico, come è nello spirito della legge 180 voluta da Franco Basaglia. Il teatro può essere strumento di terapia collettiva, per la capacità di incidere sull'equilibrio delle relazioni interpersonali, di offrire l'inizione, di rafforzare l'autostima. Ma il senso di questa gatta cenerentola va anche oltre l'aspetto clinico, annullando con la potenza della scena la distinzione quotidiana fra paziente e terapeuta. Noi partiamo tra io, Bruno, Mastandolo, Raffaella e Guido. Faccio la sorella e poi la sciurella. Io lavoro all'interno con i ragazzi da diversi anni e ho curato l'aspetto musicale. Con la collaborazione appunto del maestro di Massimo Dorsi abbiamo fatto questa fusione insieme a circa 35 elementi di orchestra. La gatta cenerentola perché unisce le generazioni e poi perché per le nostre esigenze la gatta cenerentola aveva più possibilità di poter far esprimere i pazienti da un punto di vista artistico. Il teatro è il luogo dell'inclusione, il teatro è il luogo dell'emozione, il teatro confonde. Il Comune di Napoli ha scelto di patrocinare questo progetto inserito nel programma di Natale a Napoli anche come percorso esemplare di riabilitazione integrale delle persone in sofferenza psichica. Oggi in un periodo di particolare difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale queste formule diventano oltre che assolutamente positive dal punto di vista terapeutico sono anche probabilmente quelle più sostenibili economicamente.